Seconda sconfitta per il basket club Irpinia che a distanza di tre giorni dal capo casalingo contro l'amico Energia Benevento è costretto a cedere il passo anche al forio basket ischia che conserva la propria imbattibilità nel giorno A del campionato di Serie C Gold ottenendo la terza vittoria su altrettanti match disputati. Gli Solani, allenati da coach Fabio Chiovino, si impongono per 71-58 al termine di 40 minuti di partita dominati sin dalla palla 2. L'inizio sorrideggia la formazione padroni di casa che nonostante delle percentuali non elevatissime riesce a portarsi avanti sul 17-7 al decimo e solo Grambis, migliore realizzatore per gli ospiti con 21 punti, a trovare con una certa continuità la strada del canestro. I bianco-verdi lanciano nella contesa anche Lyndon Johnson ma il centro ex Chicago Bulls non è al top della condizione atletica a caso dell'infortunio muscolare rimediato in settimana contro i sanniti. Gli Avelinesi, guidati in panchina dal neocoach Alessandro Marzullo, ufficializzato venerdì al posto di Rodolfo Robustelli, non riescono mai ad impenserire gli avversari riuscendo soltanto a ridurre lo svantaggio di 24 lunghezze siglate dalla tripa di Gutzon. Prossimo appuntamento sabato 27 marzo alle ore 21 in casa contro la New Basket Caserta.